Amici di MarchiGames, bentornati su Golf! Ho trovato un creatore di mappe che si chiama tipo Master Beef, una roba del genere. Sto qui fa un botto di mappe che dicono siano letteralmente bellissime. Mo' speriamo che siano belle davvero. Siamo in compagnia di Loco e Nico, ciao belli. Buonasera! Allora, ho messo il para 10 io. Però c'è un inghippo, che non vi dirò, perché sapete che io sono cattivello. E' un più 50, immagino. No, 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 no. Secondo me... Ma no, non lo capite cos'è. Come se sbagli perdi tutta la partita? Io sono andato sotto, ma chiaramente Marci l'ha sbagliata. Ho capito l'inghippo. Qual è? Eh, non lo dico. Parra! Amico, perché non ti lepita le scatole? È divertente questa cosa. Ho fatto par... 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 Ragazzi, mi raccomando. Il link è sempre il mio libro. Siamo in classifica, raga. Siamo in classifica. Secondo me qua, sapete quant'è? È tipo due e mezzo, ma tipo completamente dritto. Molto bravo. Ma hai fatto un bel tiro, LocoLokis. LocoLokis ha fatto un bel tiro. Ma Marci non l'ha fatto. Bello! Ho fatto par... Ho fatto due! Ho fatto par... Ho fatto due! Ragazzi, nei commenti scrivetemi dei cori da stadio da cantare durante la... Qua, raga, palese, palese, raga. Così, guardate. Non andate, faccio io. Così. Ma come si arriva in quella so... Ah, di sciaccusi. Raga, quasi, quasi. Vi giuro che la facevo giusta. Dai, sono entrato e sono riuscito. A me va bene così, sinceramente. I'm fair, I'm fair. Anch'io l'ho fatto. Ma raga, ho fatto una scorreggina. Potentissima. Mamma mia, che... Ma che buca strana. Nella... Non ho mai vista la buca nell'angolo. Oddio! Sto ma... Sì, io... A me... A me mi piace. A me mi piace la nutella, gelato capanna. Oddio. Che vendine in quantità. Eh, raga, questa è tosta. L'ho fatto nel vero. Vediamo se Marci l'ha fatto. Aspettiamo il bro. L'ha fatto anche lui. Eh, non è tosta, allora. Non è tosta, pane. Ma è tosto. Che ansia, quelli che si piacciono sempre qui davanti alla finestra. Oh, ragazzi, sono a dieci. Questa mappa... Allora, facciamo così. Chi vince deve dare una penitenza all'avversario. L'avversario chi è? L'ultimo. Ok. Ok? Mi piace. Mannaggia. E mi sa che perdo io sta mappa. Sì, ho fatto un bel tiro. Io sono fatto in duro. Te, Marci, quando hai fatto? Io in tri... In tri... In tri... In tri... Comunque ho messo... Ho messo il ripristino. Così nel caso ci fossero bug, ci si ripristino. Molto bravo. Oddio. Questa mappa dov'è? Uh... È nascusta. Troppo forte. Easy per il boss. Non sei boss. Non ci posso credere, raga. Di pochissimo. Tu cosa sei? Pirla, tre volte. No, loco, non ti insultare, però, basta. Da oggi in poi basta gli insulti su loco, se non è... Se non sono io a farli. Io non li faccio, io sono... No, dai, dai, smette. No, loco, ci vai. Io non ti ho mai insultato, loco, loco. In video non mi ha insultato. In video non mi ha insultato. Te lo faccio una video reale perché te lo ti serve. Ma che bugiardo. Qualcuno mi ha beccato. All in one. Volevo ringraziare chi mi ha beccato, comunque. Due. Bella, mi piace sta mappa, sapete? È chill. Dopo che è vera, secondo voi, sotto? Eh, non vi riusci, ma... Sono letteralmente tornato. Finta è vera. È finta! È vera, ti ha scomparso il nome. Che sfiga. Io mi sa che la va centri. Eh, io pure. Io pure. Quella sopra comunque era da all in one, eh. Quella sopra era da all in... Eh, quella sopra era da all in one, raga. Io l'ho... Eh, ho sbagliato. Non l'ho fatta. Che devo fare? Emo, se va sopra o se va sotto? Qui abbiamo due options. Io qui la tento così, raga. Guardate. Pum. Guardaci. Marci sopra. Raga. Grazie, Nico. Raga, ve lo giuro. Voglio riprovarci. Ma dai, sono comunque bloccato. Non ci credo. Pogodo. Raga, ci voglio provare. Voglio provare a fare quello che ho fatto. Non mi interessa. Vabbè, dai. Vabbè, raga. Mi sa che la faccio giusta perché sennò qua perdo troppo. Quanti colpi sei? Troppi. Ma guarda che... No, se andavi dritto a facevi prendere all in one. Anche qua, quasi. Qua, qua. No. Non c'è la buca assistita. Uh, bravissimo. Marcolo. Raga, sapete che io ho fatto quattro colpi apposta? Sì. Cioè, quattro perché volevo fare la diretta all in one cestino. Cestino? Giustino. Giustino? Quella che c'è scritto qua? Questa mi sa che è all in one. È Master Beef Collection. Mi sa che questa qui ti porta direttamente giù. Posso andare nella mappa a sinistra, Marci? No. Cavolo, è vero... Raga, è vero che c'è il salto. No, vabbè, nelle altre mappe no. Ma dove sono andato io, raga? No, quasi all in one. Ho fatto quasi all in one. Dai, che sfortuna, però. Però che sto guardando, eh. Qualsiasi cosa tu faccia sappi che sei osservato. No, nelle altre mappe non si può andare col salto. Se non c'è il salto è un conto. Lì sotto puoi andare lì davanti a te. Quella buca lì è buona. Ho scritto qualcosa? Basta che vai... L'ho letto prima, l'ho letto prima! Dovevi andare a destra. Eh, va bene anche qua. Eh, no, qua non è all in one. Dove sei finito? Ah, qua. Devo raggiungerve. Devo raggiungerve, raga. Devo raggiungerve perché non sto andando molto bene. E non sono contento il mio operato, sincero. 28, mamma, un disastro. Un disastro. Cassissimo, ragazzo. Eh, oggi male. Raga, oggi male male. Allora, qui l'ho in one. Perché sembra semplice? Non lo è. Eccala, infatti. Ma dai, ero, ce l'avevo fatta. Raga, l'ho in one. Sono... Ma dai, che sbatta. Io aspetto che arrivate voi. Buonasera. Sottiamolo. Dai, Marci, tieni. Veramente, l'hai fatto? Sì, dai. Grazie. Nico è una persona gentile. Sì. Questa cosa... Non colloco! Oggi, 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 oggi li ritornerà, Nico, questa cosa. Perché ha fatto una bellissima azione. Ok, questo mi sa di difficile. Vabbè, qua... Qua adesso, dai. Ci si può andare. Beh, qui il saltino ci sta, in realtà, eh. Esatto. Però non è quella la buca. Nicola, fatti. Sì, sì, è quella. Devi rivollare. No, non è... Devi cadere nel rotolo, Marci. Ah, sì, si può fare. Ma che sfortuna. Ma che sfortuna. Ma che... Blah, 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 blah. Che vince, Nico. Nico ha vinto. Ah, ma... Anche a me piacciono i guffi, sai. Ha fatto uno. Cavolo, Nico, le fa se sei forte. Le forte è un botto. C'è Marci, Nico ha vinto. Io sapete che vi dico? L'ho fatto anch'io. Easy. World ride to golf. Let's go. Non sei l'unico. Let's go. No, raga. Porca miseria. Yes, in ciù, birdie. Oddio, mamma mia. L'ho fatta in tre. L'ho fatta in tre. L'ho fatta in tre. L'ho fatta in tre. Ti sta raggiungendo Loco Lonskins che te la sta facendo? Stai sciallo, stai sciallo. Oh, bro. Oh, bro. La tua sorella, bro. Porca miseria. Vabbè, dai. Due. Marci. No. Allora, Marci ne puoi mollarci di te. Se io vinco e tu arrivi ultimo, non ti faccio fare penitenze. No. Non funziona così, Loco. E fa fare a Nico, lo sai? Eh, va bene. Io non sono cattivo. Com'è sì, però. Non è vero. E vuoi far fare il bagno del lago? Io ho fatto l'in one. Non spoilerare le mie spugnere, le mie. Le mie. Ma Loco, perché sei andato di lì? Dove c***o andare? Loco, ma potete andare adesso? Ce l'hai fatto fare tu prima? Ma guarda che sei un pagliaccio. Guarda, neanche ci arriva. Ce l'hai fatto fare tu prima sta cosa? Ma che pagliaccio. E' ergognato di... Ci sono cambiato. Ma lascia stare, guarda. Quella buca lì è fake, occhio. Eh, vabbè. Non è fake. Non è fake? No, è vera. Basta, però l'ultimo è facciamolo legit. Buon, non è molto corretto questa cosa, eh, però... Beh, le ultime legit, basta. Le ultime due legit. Dai, le ultime due legit, va bene, ci sto. Io ne ho fatto una meno legit. Fa niente, non ci sta. Però questa la facciamo legit. Loco è una carina da recuperare. Ah, c'è il lago. Non l'avevo visto. Allora. Oddio. Chi è che ho beccato? Ma me. Hai beccato, ma... Dai, stavo beccando Loco io. Porca miseria, sto lago viola. Non hai fatto bene, Loco. Ti devo beccare per forza, mi sa. No, ok. Sono entrato. Sì. Dico, quanto hai fatto? Hai fatto cinque. No, non ce l'ho. Hai fatto sei. Non hai dei problemi. Guarda che hai riaperto tutto, Loco, facendo questo sei. Va bene. Non ho problemi io. No, no, non ci... Siamo tutti lì. Oh mio Dio, ho problemi. Ti ricordo che abbiamo detto di fare la legit, eh, ragazzi? Non citatela, grazie. Sto cercando di capire come si può fare. L'avevo fatto. No, no, sì, 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 zio. Bravo, zio. No, non ho perso. Let's go! Oh, ho smontato tutto. Eh, Marci, è una vitaccia. Eh, io voglio provare a fare quella lì. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Così l'avrei fatta letteralmente in due. Comunque sono un idiota. Eh, abbiamo fatto tutti in due. Adesso, Marci, vuoi fare una penitenza? Chi ha vinto? Io. Eh, purtroppo è lui. Ecco il vero. Chievo.